rieccomi ragazzi scusate e nessun segnale sistemiamo subito allora quindi ah sì abbiamo preso l'altro amuleto giusto e ce ne manca uno solo ok e però dobbiamo ancora disattivare qua il generatore se ti ricordo bene però sta qua ah dai e no no il degno è preso si no aiuto ragazzi son troppi son troppi son troppi son troppissimi son troppissimi grazie alu gentilissimo ok volevo far volevo colpirli tutti quanti invece alla fine sono stato colpito io vabbè e qua c'è l'ultimo e ma il salvataggio ah eccolo no speriamo di no sai che delusione cioè io mi aspetto di trovarci una super cosa nel nuovo nooo che fesseria di danni che ho preso e mi aspetto di trovarci qualcosa di esagerato nel baule no non la nota ok se la nota ci rimango un po' male ecco quello già vedi già tame quello sarebbe una bella sorpresa ok ah dai non l'avevo visto oh uff ci trovo quello ah ah eh è già una sorpresa un pochino più discutibile alu no no ci dovevo andare da sotto devo morire devo farmi uccidere no no uccidimi 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 ok 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 ah cavolo questa al ritorno è una bella scocciatura oh perfetto perfetto e ci siamo ragazzi ci devo sta praticamente qua sotto a destra là sotto no ancora giù mmm qua sotto qua Cavolo No No Ve la devo rifare da sopra Mi serve un salvataggio là sotto Ah non c'è Cioè comunque sta No non sta lontanissimo Conviene riprendere il primo salvataggio Conviene riprendere il primo salvataggio Prima di ritentare di far quello No Ho sbagliato tasto per correre sulla lava Ah Ok Ci sono No No mal Cavolo Mi manca così poco Mi manca così poco ragazzi Ok Mi ha preso E mi ha ripreso Ok Ok Quindi No Ho uno di energia Non mi uccidete Non mi uccidete Ok 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 Perfetto No ho sbagliato Dove Devo aspettare Devo passare lì E aggrapparmi subito a sinistra Uh Sì vita intera Va bene abbiamo perso una Che ci sta Praticamente Devo far così E aspettare qua A questo punto Sbagliare il salto Sbagliare il salto Ah No Ma come faccio Beh cavolo Faccio Non ci posso Arrivare Ragazzi Non ci posso Arrivare Non ci arrivo Col secondo salto La Quattro Mostri Sono quattro Devo andare più avanti È vero Eh Bella Ho capito Credo di aver capito Ragazzi Quello che mi stavate Dicendo Ah Eh ma no Non spara Cavolo Aspettate Eh Cavolo No Non si aggrappa Col Con rampino Si proiettili Eh Da solo un'energia No 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 Ah Con solo un'energia È difficile Perché Hanno Dei tempi Del cavolo Da Pessimo Mal Ah Hanno veramente Dei tempi Del cavolo No No Ah Ok 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 Ce la posso fare Ragazzi Ce la posso fare Ok Ma Ma Cattivo Ultimo Talismano Cattivo Ultimo Talismano Cattivo Ok No No Non so come No Non so proprio come arrivarci Ragazzi Cioè devo partire forse da quello più sotto No Cavolo Forse devo partire No Non ce la faccio col tempo Se parto dal penultimo Forse devo partire dal terzo ultimo Praticamente dal secondo Se dal penultimo Non ce la faccio proprio Cavolo Problema Vediamo un po' Mmm No Stanno Cavolo No 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 Non posso neanche farlo in planata Cioè la planata non la devo proprio usare Cioè con la planata non ci si riesce Dannazione Ho capito che è l'ultimo però Cavolo Ok Qualcosina di più semplice Sarebbe stata Ben accetta Eh Me l'ha tolti ragazzi Me l'ha tolti Perché se mi abbasso troppo con lo schermo I proiettili finiscono fuori Me li toglie Ah Cavolo Eh non mi ha ridato neanche energia Eh ce n'ho una sola Ah Di pochissimo Ah Di pochissimo Cioè veramente di pochissimo Cioè l'ho mancato di un soffio Cavolo Cavolo Ah Cioè Ok Ci sono Non Non ci sono No Mi ha preso Cavolo È È tostissima ragazzi Che no Non so proprio No Niente Sono Troppo Desincronizzati Proviamo a resettarlo Vediamo Ah dai Quello non mi doveva prendere Perché Perché praticamente Li dovrei inseguire E gli ultimi dovrebbero stare Leggermente più avanti Dei Dei penultimi È l'unica maniera Per farli Apparentemente La mia energia Ah Cavolo O forse No 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 dai Non l'ha preso È È tostissima ragazzi Mi sa che Ci staremo Veramente un bel po' Perché Non è che ho capito Non è che ho trovato Un modo Per farla In sicurezza Anche perché Poi Alcune volte Ma Ma Li manco Di talmente Tanto poco Tipo Vedete che Sono scomparsi Cioè Se mi abbasso Troppo E Li manco Eh No Ah Da Dalla Ciao Xamenor Buongiorno Il problema È che Dalla parte Sinistra Qua sopra No Non mi posso Arrampicare Se I mostri Stanno fuori Schermo Non sparano Quindi io Quando mi trovo Sopra Non ho i proiettili Dell'ultimo Vedi Non ci sono I proiettili Alla fine Quindi Praticamente Devo avere L'ultimo Sullo schermo Perché Se no Non lo spara E Quindi mi devo Per forza Avvicinare A quel lato Quello che Poi forse Posso Riprovare È vero Però Se io ci provo Oh cavolo Non così Il problema È che È l'ultimo Perché Se Non viene Caricato È Fuori Tempo Rispetto Agli Altri È È È Quello Sto Così Di Di Carica Quindi Non so Ma Eh ma Non ci Arrivo Da Cavolo Il problema È che Per fare Quel salto Devo Devo Colpire I proiettili Al volo E Però Se Se lo faccio Troppo Velocemente Mi parte La planata E Non mi fa Il doppio Salto Ah Ah Vedete Che non Non ci Sono Quei Dannatissimi E Ah Ah C'è Veramente Cavolo Che di Niente Bisognava aspettare Semplicemente In volo Bisognava cercare Di restare In volo Il più tempo Possibile Per far Sponare Gli ultimi Proiettili Mamma mia Che 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 parte Da dimenticare Veramente Sul serio Ragazzi Ok Ora Ora Dopo tutto questo Dopo tutto questo Che cosa c'è Qua dentro E No Si ricarica Da solo Ragazzi Adesso Si vede Che eri stanco Tommy Ciao Luis Buongiorno E buongiorno Anche a te Tommy Come state Ragazzi Le due note Le due note Valle dal mercante Sto shoppando Denkar Sto shoppando E Una sicuramente Starà qua Cesare L'altra Forse la sblocca Con la corona Forse Tutto bene Tommy Abbiamo appena Fatto Intanto Mi fumo Una sigarettina Ragazzi Abbiamo appena Fatto Una Veramente Una parte Assurda Assurda Mannaggia Tenkar Mannaggia Mannaggia Ma Adesso Ci lascia La nostra Live Eh Tenkar Aspettate Intanto Metto Qualche Musichetta Di sottofondo Potete fare Uno shout out A ciccio Pasticcio Per favore Ragazzi Guardate un grandissimo Shout out A ciccio Pasticcio Esiste Ah Ma esiste No Esiste Del serio Potete controllare Esiste Esiste Anche due Follower Grande Ciccio Pasticcio Yeah Siamo più gente Ok Tenkar Mannaggia Mannaggia E' vero E' vero Tenkar Non so se ti è arrivata Ieri La mail Di acqua che bolle E Che ci ha invitato Al torneo Di Di Overwatch Dove si giocherà Però esclusivamente PUBG Sta cercando Di Fare Un nuovo Trend Praticamente Il torneo È strutturato In questo Modo Allora Ci sarà Il premio Per Overwatch Il torneo Si farà Su PUBG E Durante Tutta la Diretta Sarà Inquadrata Solamente Una pentola Con l'acqua Dentro Che bolle No Però ci devi mettere Alla fine Cesare L'ok Con il punto Interrogativo Che se no Non va bene Ma si fa una Spaghetta Esatto Così Così Rende E sono Andato Su Marte Dovevo Andare Su Marte Mannaggia Ragazzi Quanto Siete Matti Ok Ok Oh Ma 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 che Casa Garina Però giocare A questi Giochi Mi fa Venire Voglia Di Giocare Air Type Cavolo La parte Dietro Che cosa Fa Però Non capisco Mannaggia Ragazzi E poi Mi fate ridere Troppo Eeeh Vabbè Questo è veramente Easy Cioè Effettivamente Dopo Cuphead Questo è Sul serio Easy Mod Eeeh Eeeh Oh Alla Nota Eeeh Non so Se ci sono Oggi Pomeriggio Tommy Gancia Gancia La nota Eeeh Però Sì È vero Ce ne manca Una Mi sa Cavolo Cavolo Ma Ah Ah Eeeh Potrà diventare Un maggiordomo Chissà Chissà come fa Questo drago A fare il maggiordomo Però Senza mani E chissà perché Questo maggiordomo volante Aveva i missili Eeeh Ma Eeeh Ci ho parlato Dopo Marte Dopo Marte di sicuro Allora dov'è un teletrasporto Qua Me lo ricordo E' Tenkar che ci ha parlato prima Infatti io l'ho detto Tenkar ma che fai Pilli Grazie del follow Gentilissimo Au Au Ok Vogliamo usare Ah no vediamo se ci da qualche altra profezia Poi usiamo il money sink Che non serve assolutamente a nulla Cioè ci manca l'ultima ragazzi Ma non so dove trovarla Eh lo so ma non so dove trovarla L'artificiere Ok Chi è l'artificiere? Chi è l'artificiere? Ah l'artificiere Ah Ok a destra Quindi Upgrade L'abbiamo finiti E E via Tutti li voglio buttare Tutti E 1987 E adesso Come no Non ci faccio niente Cesare Uh Sbagliato Oramai Non ci faccio più niente Voglio vedere se succedeva qualcosa Va Va qua la corona No Eccola Certo 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 Se l'abissomi guarda Anche io lo guardo Wow Cavolo Ma Ok Questa mappa Mi sa che Eh Dovrebbe essere qui Cesare L'ultima nota Credo Ok 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 Oh Eh Ah No Mal Falta Quello era Inganno Perfetto Non qua sopra Ma qua sotto Ah Ah Fregato Carino E cambia Anche la musica Mmm 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 Ma che C'è Ah Beh Grazie Ah Devo per forza Andar sopra Che non riesco A vedere Se c'è Mi sa che Devo per forza Andar sopra Ragazzi Vediamo un pochettino Sì No Torna indietro Bastarda Wow Eh Lo sapevo io Ok Mmm Experianze Alla strada Giusta Beh che Non ne ho Viste Altre Però Mmm Qua Questa Andrà So Va sopra E Quella Allora ci riporterà Indietro Questa Eh Infatti E Scenderà Sotto No È rimasta Sopra Mmm Ops Ok Togliamoli tutti Per sicurezza Scusate ragazzi Colpo di tosse Ok E Qua Eccola E La chiave del coraggio E ora E Ehm Wow ahhh 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 aiuto ma come cavolo ahhh l'ho lisciata ahhh 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 e che quando lo lascio troppo indietro lui comunque recupera c'è non è giusto ragazzi vedete nooo nooo è quella parte che mi frega con quei mostri che mi bloccano il passaggio no eh ma sono quei mostri che mi rallentano cesare non so come fare ahhh ahhh cavolo mi avevo recuperato dai no ehhh niente il secondo forse lo devo saltare ragazzi forse posso saltarlo forse lo devo semplicemente saltare forse il secondo va semplicemente saltato e il primo va ucciso e il secondo va saltato ahhh ahhh no no ahhh ahhh cavolo Ok Ah No Dannazione E vabbè No l'ho lisciato la stragrande Dove ma questa parte E' allucinante Cioè che no Il problema è che no Anche se faccio delle parti perfette No Non lo posso lasciare indietro Cioè mi raggiunge subito Quindi è anche un pochino inutile Ah Ok Dannazione No Mi sembra giusto Baroz Cioè Oggi lo finiamo Devo solo riuscire a capire come superare quei due mostri Che no Non l'ho proprio capito Forse il primo lo devo uccidere con lo shuriken Il secondo con l'arma Ma molto probabilmente è così ragazzi Perché il primo muore con un colpo solo Mentre il secondo no Quindi forse Quindi forse Questo va con lo shuriken Questo va con l'arma No Ah Cavolo Eh che quella parte Non l'avevo mai fatta Quindi no Cioè ho tentato di Di prenderlo Ma No Mal No Ah L'ho mancato Ok mal Concentrato Concentrato e ce lo puoi fare Oh Concentrato Ok Salta No Pensavo di aver più strada Ok ok Ci sono ragazzi Ci sono E' tutto sotto controllo No Non è Ah No 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 Che ci sono Paroz No Non ho bisogno di niente Ci sono Cavolo Ci sono ragazzi Ok Ok Ah Perché poi quella parte Prima mi riusciva Tanto bene No Mi devo concentrare Sulla parte attuale Non devo pensare Alla parte futura Mi devo concentrare Sulla parte attuale Che se no No Non ce la faccio No Mi ha saltato Dall'altra parte Ragazzi Cavolo Mi ha saltato Dall'altra parte Dall'altra parte Dall'altra parte Dall'altra parte Niente Quella Devo fare un salto Più in alto Sto cercando Di vedere In quale zona Posso recuperare Posso guadagnare Un po' di tempo Ma Rischio solo Di non riuscire A prenderle Le farfalline Perché quella farfallina Sta a mezz'aria Rispetto alle altre Ok Perfetto 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 No Aaaaaah Ciao Tame Grazie mille Di essere passata Buon pranzo Eh la La dovevo usare Due volte Il Il rampino Su quella parte Andavano due volte Il rampino Per aggrapparmi A Le Le lanterne No Non ce la faccio Mi uccide Mi uccide Aaaaaah Niente Se ne risci una E' la fin Cavolo Se ne riscio una Ragazzi E' veramente La fine Dannazze Ok Ok Eeeh Ok No Ma come faccio L'avevo presa Come cavolo si fa Quella parte Possibile che Come cavolo la faccio Quella parte Da Risciato Bentornato Tommy Chi è questo Coso Non lo so Però è Cattivissimo E il livello E' veramente Difficile Beh E' veramente Assurdo Ah Niente Quali punti Quali punti Prezioso Ok Ah ma No Quelle E' Aca Lo faccio Per saltare Ragazzi Perché se no Non posso saltare Sulle parti In alto Mi servono i punti Devo colpire qualcosa Per Cioè Non c'è il doppio salto In questo gioco E per saltare Devi colpire Per forza Un oggetto E gli unici oggetti Che ci sono Sono Quelli Sono le lanterne Che hanno I frammenti Quella è l'unica maniera Per fare Il doppio salto No Sbagliato Quello Andava saltato Ok Ah cavolo Niente L'ho lisciato È perché È più inaccurato L'uncino Tommy È quello Il problema Cioè Se stanno dritte Per dritte Sì Però Tipo Questa Eh vedi Perché A me Mi fa Dire azzurre Con Luke Ah Ciao Furious Birds Scusati Ho letto Solo adesso Ok Ci provo Perché è veramente Difficile Ops Da prendere Fa Quando Stanno A mezz'aria Ok Salta Ok No Cavolo Mi si è Aggrappato Al muro Ragazzi No 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 Ok 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 Lì Lì ho sbagliato Proprio tasto Ragazzi No ma tanto Non mi arrendo Eh Se Se lo scorda Proprio Ah Cavolo Dio Esagerato Lì Dio No Ho saltato Troppo Tardi Ok Ok Perfetto No Ho sbagliato Tasto E Avanti E Ah Grazie Furious Grazie Del consiglio Ah Eh si eh Ma Ciao Ork Buongiornissimo Ben Arrivato Come la Ma Ork Tutto Bene Ok Quindi Dovremmo E Ma come Come non lo sai Ma Oh Furious Furious birds Grazie Del pollo Gentilissimo Va Ma È Tutto No No Non è Vero Cesare Non avrei mai detto una cosa del genere Non avrei mai detto una cosa del genere No Non è vero Vedete i buggerdissimi E comunque non è il boss segreto Il boss finale Quello segreto Non c'è Non avrei mai detto una cosa del genere Non avrei mai detto una cosa del genere Non avrei mai detto una cosa del genere Non lo so Cesare Non ne ho la più palida idea Il boss SAY FANTASTIC Ok. che hanno fondato il Tempio dei Ninja. Ah, era lui il demone generale? Il generale dei demoni? Ah, no. Credevo trasformasse il fantasma nel generale dei demoni. Oh. Ah. È stato messo dentro al carry on. Ah. E che finaccia. Vabbè, però dai, c'è un po' di candele e un po' di rose. Ah, è lui che ha creato la pergamena. Ah, peccato, ma avrei voluto giocare con il barbaro, però. Sono il vichingo con il martellone. Il vichingo con il martellone mi sarebbe piaciuto. E anche quella sarebbe stata interessante, Ork. Eh, quello di un martellone sarebbe stato divertentissimo, secondo me. Quindi non mi sarebbe piaciuto. questo è successo perché non siamo arrivati noi abbiamo fatto morire il messaggero il nostro successore non è che abbiamo fatto morire non sapevamo che lo dovevamo resuscitare non ce l'avevano avvertito recuperarle tutte quante ah dobbiamo entrare entro il carry on che forza certo sono prontissimo doveva non siamo diventati tanto piccoli ma ah sta qua in alto oh stannati oh ok ho capito ok ho capito ho capito che è da prendere con molta calma e se no qua facciamo la brutta fine ok ok perfetto no oh oh e questa dovrebbe aprire questa qua a sinistra no no mal l'avevo anche visto ok bianca a destra delle ah gli shuriken nuovi orc cioè che abbiamo trovato dentro la cesta quella che si apriva con si sono fantastici cioè li lanci vedi e torna indietro e si ricaricano da soli sono carinissimi eh no erano tipo 40 all'inizio però li abbiamo trovati tutti ok ok e dovremmo andare si qua oh cavolo ah dai perfetto e ma ma mi ha fatto finire non è stata colpa mia ragazzi mi ha fatto finire in mezzo no non c'entro niente mi ha fatto finire in mezzo al alla pedana ah cioè lì non c'entravo proprio niente io no non lo so com'è successo dannazione ok no perfetto aspetta andiamo in tutta sicurezza uff arriva fino a sopra ok eeeh salvataggio arriva fino alla fine? no ok oh dannazio pertanto uno vale vale l'altro no? ah cavolo oh no uff dannato pipistrello ah speravo di di trovare una cura vai che c'è il salvataggio qua ok ok Energia Ok Un po' con calma ma non abbiamo fretta Ok Perfetto E Sai che ce l'abbiamo fatta No Ah vabbè Mi sono veramente distratto Come qua Ok Ora No Ah salva d'aggio E Ah Cavolo No Trip L'ho presi proprio male Cavolo Ma Vabbè Cioè Quello Non conta Neanche questo conta Mi sa che Sono un po' arrivato ragazzi Che credo di essere un pochino arrivato Ok Perfetto Non c'è la mappa Sì c'è la mappa Ok Ah Cavolo No Ah Dannazione ragazzi Se solo avessi avuto più energia Da Ok Tostarella Quella parte Oh Dai Bregatura Ok Mi servirebbe un pochino di energia Ok Mi servirebbe un pochino di energia Mi servirebbe un pochino di energia Però Non so dove Trovarla No Non credo di farcela No Ho sbagliato proprio il tempo Là Mi servirebbe Un 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 po' di energia Forse qua Eccola Da Vabbè Come sprecare subito l'energia Cioè forse Cioè il discorso è che dovrei riuscire Quella parte con I Il vapore Da Il problema del 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 danno è che è altissimo Su questa parte Quello sì No Dai Sul serio Vabbè Proviamoci ragazzi Magari Siamo fortunati E E uno di Di questi ci lascia Delle energie Oppure riusciamo a farlo Senza morire Ma non ce l'ha lasciata Ah No Ma Non erano alternati Adesso Non erano alternati Io ricordavo che Erano alternati Ok Facciamolo così questo Cioè se no c'è C'è il rischio che Che perdiamo Delle energie Inutilmente No Mi ha preso All'angoletto Ok Vedete adesso Sono alternati Sono alternati Vabbè Vabbè Te li ho presi tutti Cavolo Dove mi posso far sconfiggere così E' una questione E' una questione di principio Asada No Fregatura Che sono velocissime Che sono velocissime Che è venuta voglia di giocare a Sinner Non ci credo Sei un bugiardo Mi stai trollando Dammi una cura Dammi una cura Facciamolo così ragazzi Cioè ci metto più tempo Ma Almeno sono sicuro Di riuscire a farlo Ok Dannazione Dimmi che c'è un salvataggio Purtroppo non c'è il salvataggio Tenka Lo vorrei tanto Ma non c'è Ehm Ok Ok Wow Salvataggio Cavolo Salvataggio Salvataggio Ok Potrebbe con No no Da Ah 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 Non mi dire così Però potrei prendere Da noi In maniera stupida Come ho fatto adesso Ok Ok No no Oh Sì esatto Da chi l'ha intuito? Eeeh piena energia Ok Ah altra piena energia non mi serve Però Ok ora questa parte ragazzi Vabbè E' andato E' andata così Ce la facciamo andare bene Ah E ora? Ma non mi servono neanche più Perché ho preso tutto quello che c'era da prendere Ok Bozz Grazie dell'host Gentilissimo Cioè no Non voleva morire quello eh Era attaccatino alla vita Buongiorno ragazzi Come state? Grazie Alu Andate a lasciare un bellissimo follow a Bozz Che è uno streamer bravissimo E simpaticissimo E porta tutti i giochi particolari Oh Cavolo Ok E adesso Ciao Aml Ok Ci sono Cavolo E Va un salvataggio No eh Niente salvataggio per mal No Niente salvataggio per mal Salvataggio per mal Un salvataggio per mal Ah Ok Salvataggio 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 per mal Ok Uff Com'è andata la mattinata Bozz Ah stai giocando a metro Io non ho mai giocato nessun metro Però so morire sulle punte in questa maniera Però ci devi mettere Tenkar L'ok con il punto interrogativo alla fine No 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 Ecco bravo Alu Così Un metro Un metro tanto Ok Ok No No Cavolo Però io l'ho Io l'ho fatto Ieri a Dandor Ma No Non mi ha dato corda Ragazzi Io l'ho fatto praticamente per tutto il pomeriggio Ma sul serio Io l'ho fatto per tutto il pomeriggio Ragazzi Mi sto prendendo in giro Io l'ho fatto per Io l'ho fatto per Due ore No Due ore no Un'ora e mezzo buono Sì però Però Non mi ha dato proprio soddisfazione È rimasto sempre serio Vandaggia Ma che cavolo Ah Ok Ma no E adesso E adesso vi attacco Beh Quella Questa parte Ragazzi Dannazione Non so proprio come fare Perché mi Eh Uh Ce l'ho fatta Salvataggio per mal O anche no Salvataggio per mal Ok Perfetto No Non l'avevo visto Eeeh Salvataggio Volevo energia Collatevi dell'energia Grazie Ah Oh No No Mamma mia Ragazzi Che recupero Che Che recupero No Dannazione Dannazione Dai L'hai detto troppo presto Cesare Dai Non sapevo come schivarla Va beh Passiamo Con la forza Bruta Oh Ok Che adesso Ok No No Uh Va Devo andare A destra Sì Là Là Giù in fondo Ok Uno Uno L'abbiamo tolto Eeeh Ok No No eh Uh salvataggio Salvataggio Per vano Eeeh Managgia ragazzi Ecco Vedete Vedete Che vi succede Se vi fate ridere così No Ma no Quel vostro mi ha fatto un attacco illegale Ok Perfetto No No Ma perché fa Fa queste cose Che ci passa Attraverso No Non capisco Sì 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 Siamo arrivati alla fine Siamo arrivati alla fine Ah Allora Pubblicità Sono tra due minuti ragazzi Però senza pubblicità Mettiamo un po' di clip Siamo arrivati alla fine